Nella giornata di ieri si è svolto un nuovo incontro fra Regione Toscana, Poste Italiane e Danci per l'ormai annosa vicenda della chiusura di molti uffici postali minori in Toscana, fra cui tre nel Valdarno. L'incontro ha fatto emergere un piccolo colpo di scena sulla vicenda. Uno spiraglio si apre sulla possibilità di non far chiudere gli uffici postali minacciati dai tagli che nella vallata sono quelli di Campo Gialli, Pieve a Presciano e Mercatale e cioè quello di dare la possibilità agli uffici di vendere biglietti ferroviari dell'autobus e abbonamenti. Ma non solo. Il vicepresidente di Anci Toscana e sindaco di Terra Nuova Bracciolini, Chienni, era presente al Summit. Sostanzialmente il presidente ha proposto di vedere quali possono essere i servizi che possono essere affidati a Poste Italiane in modo tale da incrementare il loro volume di affari di questi uffici postali a costo zero però per le amministrazioni e per la regione stessa. Quindi sarebbe un passo che probabilmente porterebbe Poste a migliorare i propri conti in questi uffici postali e dall'altro lato avere gli strumenti per poterne preservare l'apertura perché ricordiamo che le amministrazioni sono interessate non tanto alle amministrazioni pubbliche al volume di affari di Poste, quanto alla possibilità che questi uffici postali restino aperti perché danno un servizio pubblico importante ai nostri cittadini. Quindi l'impegno è rivolto a questo. Seguiranno altri incontri, vedremo quali sono gli sviluppi e quali saranno le risposte di Poste rispetto a questo impegno preso dalla regione in collaborazione con i comuni toscani.